Professore, biologia e protesi, siamo vicini alla soluzione? Beh no, siamo sulla strada buona, bisogna lavorare, lavorare tanto, giusto al caso dell'acufene è proprio emblematico, l'acufene è una delle problematiche più difficili da affrontare. Assolutamente sì. Dal punto di vista biologico è stato affrontato, mi sembra poco, è una delle tante patologie che investe la coclea e sulla quale appunto lavorare, lavorare tanto, come dicevamo prima, è una ricerca di base, è una ricerca per produrre conoscenza. Evidente. Poi la conoscenza troverà il suo spazio, d'altra parte come appunto diceva l'autor H, e anche il loro lavoro ha bisogno di conoscere meglio l'apparato, per sapere come muoversi. Ci fermiamo.